Mi capita, io penso che Di solito era quando voli andare in mid che ti faccia aspettare tanto Ho messo top E dopo ho fatto 6 minuti e mezzo di Q, l'ho resettato e ho detto Sarà buggato, ho fatto altri 5 e boom Fillato in mid Ma che mondo è mai questo ragazzi? Un mondo dove vieni messo mid perché la gente non vuole la mid Va L'ho fatto Vitti però ho perso la voce Ho aspettato due game E' talmente assurdo che ho praticamente perso la voce Quindi insomma Questo è quanto Questo casino ragazzi Che pingate di continuo Cazzo per me ci avete Azz, non ero pronto a questo Non mi vogliono fare Vabbè, è vero che a questo elo capita In queste cose Sto pensando inizia a D e sapete Fa molto molto danno C'è come mi recupera 12 HP Cioè, wow, I mean 57 No, Max Cioè, start di E La E è molto forte La E di Iori Che fa 15% Della vita Del nemico Cioè, è parecchio forte La spero Guardate Puffe Eh, 235 di danni Buttali un po' via Grazie della piantina Tesovo Ok Tuk E via Cerchiamo di lastitare In modo tale Da tirare fuori gli schiavi Molto importante Questo Tiriamo fuori Il patrone Il patrone Il patrone Ok Aspettiamo L'ultimo schiavo Tutti e quattro Let's go Siete pronti a vedere Come si farma bene Adesso Siete pronti Puffete Il twitch di Mauri Fai punto esclamativo Mavri Se non sbaglio Era così il comando Guarda qua Come si farma Ragazzi Guardate qua Lo stanno facendo Perché sono fermi Cazzo per minicando Questo Patrone 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 Tanque io che sennò Rischia di resettarsi Il campo Non ho mai capito Perché Vabbè Guarda Tuk Olpe là Spera Non voglio che mi muoiono Gli sgorbi qua No schiavi No Picchi a me Bastardo Gli schiavi qua Mi servono Tuk Mamma che maestria Comunque Mamma che maestria No glielo lascio Questo Oh Hello Polizia 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 Mamma mia Cal che schifo Va bene Ok lì c'è il Jax Il ragazzo Soffre sblood Ma l'ha già fatto Ecco Come vanno gli altri 28-18 Anivia outfarmata Ok meglio Sado back 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 E si vola Bot Attenzione Bon fight The old predator Che è molto importante Il nostro polizia Yorick Questo campo Ci permette Di prendere Tanti schiavi Per quello È assai importante Il campo Adesso ci muoiono Nulla che io possa fare Ok Perfetto Ho i miei quattro schiavi Paradoxalmente potrei farmi il Drake Adesso se Non fossero morti I miei bot Guarda qua quante botte Guarda quanto picchiano I miei schiavi Bravi ragazzi Bravi così vi voglio Così vi voglio Ragazzi Lo sanno che sono qui Ragazzi lo sanno Zed Zed se passi Vabbè che questi Vabbè passa pure lì Zed Tanto questi Duke Ecco qua Easy Va lì quante piante Mamma mia Ribellione della natura Proprio Ribellione della natura Questa Ok Rip top lane Attenzione Rip top lane Minchia c'è di nuovo sto campo Quanto ce l'ho stato in bot lane Tuk Comunque non ho ancora pensato Che oggetto farmi Effettivamente Sapete Mi sa che andrò di Trinity Si Sa proprio andrò di Trinity Ragazzi Erano Anthony Poi ho perso la voce In due game Il che vuol dire Che i due game Erano Tosti Molto tosti Erano quei due game Fidatevi Andiamo a fare Andiamo a fare questo granchio Poi andiamo back Compriamo Andiamo Tommy Sa che andrò di Trinity Si Io ho preso questo per Non mi servivano due spade Abbe sti cazzi Buona sera Signor Signor Mi raccomando Un abbraccio Era troppo worth la mia azione Meno male che Zed dinta un po' Oh bravissimo Zed Bravo Peccato Avevo fatto una bella azione Però mi sembrava al minimo There will be no requiem Not yet Worth the orick Yeah Zed Inted Che tristezza ragazzi Che tristezza Che liscio Ho attirato Non sta fu Niente Eh niente Era una così bella azione Ragazzi Tanto tanto bella Quell'azione Era i tempi Poi basta Non ho gli schiavi purtroppo Mi servono i campi grossi Per farmi Per farmi Il pieno di schiavi Due livelli sotto Madonna E' questo ultra via Oppure flash Che tragedia ragazzi Campi per gli schiavi Sì Tipo qua Perché contro il group Non riesci a prenderli Eh 1.9 mi serve Eccoli 5.1 Ok Shutdown Buono Questo è Easy Herald Mi sa Ok Ajax è bot Sa che tiro questa Tanto voglio dire Oddio Ok Non riesco a muovermi Oddio Ma come succhia Guarda come succhia La maiden Brava Succhia Che succhiaggio ragazze Che culo Che succhiaggio direi Oddio E si vola Tuk Guarda lì Guarda lì Che succhiaggio totale Che cazzo è stato Capra Grazie dei tre mesi Bentornato nella Felix Army Capra Grazie Un equalturi Per i tre mesi Bentornati Grazie ragazzi Del supporto Gentilissimi Da chi lo mettiamo Questo Herald In bot lane In mid lane Allora Io c'ho l'Herald Il dove adesso Vediamo Vediamo dove metterlo Prima cosa Riforniamoci Di schiavi Mi servono Gli schiavi Un attimo Menate schiavi Menate Ok Drake E poi torre bot Direi con l'Herald Schiavi Andate Picchi a me Non i miei schiavi Io sono un padrone Buono io Andiamo a mettere Questo in mid lane Tuck Mi sa che non lo metterò A mid Andiamo a bot Visto che ti seguo Dal terzo episodio Della scalata Avendo fatto Amazon Mi sembra doveroso Abbonarmi Questo è un Herald Assai difficile Ragazzi Arriva la polizia Arriva la polizia Che cazzo Pure te Zed Però Quella Anciamana Perfetto Cosa Dove va Zed Niente Zed Ha deciso Di romare Proprio Quando dico Vengo Piazza dell'Herald Di mid Cosa fa Roma Oh No Cazzo Pensavo fosse Dentro Va bene Oddio Ok Ok Ho vetto Kinder La torre è andata Ok Non potevo Non potevo fare altro C'era Pyke Jax Qui Buo ragazzi Non lo so Sto Zed C'è 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 Lignan Muore Lui muore Poi Anivia Ma Anivia Mi sa che ha livellato Perché non aveva mana È full mana Era full mana Siccome si è livellato In quel momento Ragazzi Con sto cazzo Lost chapter Va Scarve sarebbero Quelle per i cc Anche per gli slow Oddio Ce ne sono qua No Quelle anti slow Allora KS Pyke Di cosa sta parlando Cioè davvero Pensa che Pyke Abbia fatto KS Quando Pyke Moltiplica i soldi Mamma mia Che gente Mamma Che gente C'è un sammanco Che la ulti di Pyke Moltiplica i soldi Per l'avc Io non so veramente Che dire Vabbè Non conosco queste tecniche Ah no Eh no Pyke è veramente Giocato molto poco Qua una guarda La mettiamo Viene angancati Kyle Ma questo Tutte le volte Che lo vedo C'ha il flash Lo guardo Flash Guardo male Flash Ma che cazzo è Non ce la si fa Ragazzi Non ce la si fa Non ce la si fa Non ce la si fa Sa proprio di sì E niente Quanti pochi danni che faccio C'è ma one shot Ma uno shotato Stava a 2-6 Vabbè Però se pensi Tutti i soldi Che gli ha dato Pyke Effettivamente Effettivamente Va bene Dai Sgravo Sgravo Non ti sei accorto Di un video Di un video Particolare Che è uscito Sfere cancati In cui cerco Un editor Per i best moments Anzi il Goff Legends Il quale i video Si chiama proprio Cerco un editor Grazie Marco J Scusa non ti ho ringraziato Prima Bentornato Bello Bentornato Caro Comunque Se non vedete I best moments Perché non li faccio più Non sono nascosti In altri canali Cioè io Sgravo La formula Del best moments Cioè best moments Compilation Di clip sparse Non la sto più usando Da tempo Perché ho preferito Fare Invece La formula Del video intero Cioè anziché fare Best moments I clip Così a cazzo Si fa il video Con quel determinato tema Che si porta in live Esempio Porto in live Cazzo ne so Porto in live Besiege Si fa Besiege Episodio 1 2 3 Capito Più posso fare Best moments A cazzo Vabbè Mashley ha camminato In faccia A un certo punto Ovviamente Si don dei fight Abominevoli Ok Niente Me l'ha detto Ragazzi Me l'ha detto Me l'ha detto Mi piace Wild Rift Ho un pc Quindi non Non ci giocherò mai Però C'ho giocato Ok Però Potendo giocare al pc Gioco all'occhio Non è brutto Però mobile game Cioè nel senso Let's go Vai L'ho slowato Di red Sì Slowato Nel senso Del mal fight Slowato Fino a un certo punto Tuck Guardate lì Guardate lì Che danni Non si scherza Ve lo dico io O sì Gli schiavi O sì Cazzo Spero che Jax Facesse in tempo A saltare Tutto bene Fobris Tu come stai Bello Tuck Ok Ci prendiamo Gli schiavi Bru Bru Psst Sempre ragazzi C'è c'è l'abbonamento Mal fight al flash Quando mi vede Veramente Oh Non penso di aver mai visto Mal fight Non flashare Ambigo Strano Oserei dire Un ictus Venite Patrone Patrone Beh ho 400 Oh 128 Non è poco Dove è morta Zyra Voglio vedere Cioè guardate dove era Zyra Senza vision C'è una roba allucinante Eh sì Spavate pure che le spawna L'Ossian Lo so anch'io Le spawna Se lo avesse un team Con cui farlo Tra il paese Tutti li ho fatti De Rake Tutti Vai Rinnovo degli schiavi Rinnovo Che bello Che bello avere sempre Gente nuova Cioè guarda Allora le mettono le war Sono solo i miei Che hanno questo difetto Di fabbrica Se mi dedichi Una chi Si O O Mi dedicarsi Una chi Per dire Che mi hai dedicato Una chi O i vantarvi Del fatto Che mi hai dedicato Una chi Si 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 E' di qua E' di qua E' di qua What? Perché mi davo Un speed anche a Saoli? E' lo? Beh ma è velocissimo Sto tizio Beh Sunny Mobility Guarda che potete Farlo anche voi Nel senso Sono morti tutti Non penso ve lo rubi Lo spirito santo Qua messo in cinta Maria Dove essere viva La mia presenza Per farvelo Rubiamo ragazzi Rubiamo il più possibile Più roba ci mettiamo in tasca Meglio è Schiavi Puffete Venite Servono altri schiavi ragazzi Eeeh Ma è ronco Vabbè questa ragazzi Sta proprio dormendo Ecco Rinnovo degli schiavi E via Rinnovo degli schiavi Adesso vedete Come si pusha qua Eeeh Ah ve lo dico Schiavi Guarda lì 52 danni in autoattacco Ragazzi Guardate Fanno un botto di danno Sti cosi Considerando che sono in 4 E che attaccano di continuo Rinnovo Easy Cioè E niente Sì sì fate poi il baron Ragazzi Mi sembra un ottimo Ma Un altro po' di autoattacchi Perché finire Quando potete fare il baron Ecco qua Disintegrata Basta Andrea Trattino Basso Mari CIRDX 100 Age of night Mi sa Andrea Grazie dei beats Caro Molto gentile Grazie mille Grazie Liamo per i 10 mesi Vai Prenditi la key Che preferisci Tra le mie 5 Grazie mille Dove sa Molto gentile Aiaiaiaiaiai Livello 15 16 Z Non si sa come Mi sembra anche scarso Però va bene così A che ora fa le reaction All'una e mezza di notte Di solito Quando tutta la gente dorme Scherzo Alle 20 e 30 Le faccio Cioè E la faccio Come live serale Oddio Un TP Midland Perché Scopriamolo Ragazzi Io non ho capito Forse c'è un fight Forse si prende Anivia Oddio Oh mio dio Polizia Polizia Boom 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 Polizia Alt Mal fight ragazzi E l'abbonamento al flash Veramente Mal fight E l'abbonamento al flash Non lo so Non lo so Top Così Per bruttezza Vediamo un po' Molto bene Brava Kyle Non ha giocato il game Insieme a noi Peccato Fantastic Lo schiavismo È stato Ricompensato Molto bene È È È